In vista della repertura delle scuole, la FLC CGL di Teramo ha organizzato un incontro con l'RSU per discutere del nuovo anno scolastico che sta per cominciare. Il terzo caratterizzato da una pandemia che ha modificato profondamente le abitudini, stile di vita, rapporti umani, modalità di erogazione delle prestazioni professionali e che inevitabilmente ha cambiato il modo di fare scuola. Al centro dell'incontro soprattutto la questione di sicurezza, ma anche il ruolo dell'RSU nella contrattazione per garantire un percorso di crescita personale e professionale dell'intera comunità educante e contribuire a garantire una scuola pubblica di qualità nel territorio. Noi oggi riuniamo i nostri delegati, le nostre RSU per ragionare con loro sulla ripartenza e quindi cosa la RSU deve fare all'interno della singola istituzione scolastica. Perché non ci dimentichiamo che le regole che ci sono nella pubblica amministrazione, pubblica in vita e quindi anche nella scuola, sono regole che dicono che si contratta all'interno di ogni singolo posto di lavoro e quindi anche nell'istituzione scolastica, sia l'organizzazione del lavoro sia la distribuzione delle risorse. E siccome l'organizzazione del lavoro è cambiata tantissimo adesso in ragione dell'emergenza pandemica, è bene che la RSU abbia consapevolezza del proprio ruolo, come deve avere consapevolezza del proprio ruolo la RLS che rappresenterà dei lavoratori per la sicurezza. Perché in questa situazione occorre che ciascuno faccia la sua parte. Noi abbiamo visto che ci sono piani per la sicurezza predisposti, ci sono risorse predisposte, però occorre che ci siano operazioni condivise in modo tale che si affrontino le questioni che consentono alla scuola di fare un passo avanti e non invece trovarsi di fronte a dei rischi di chiusura ulteriore. Noi l'abbiamo sempre detto, siamo per l'obbligo vaccinale, un obbligo che deve essere previsto dalla legge e lo consente la stessa Costituzione, l'articolo 32, quindi insistiamo su questo versante. Dobbiamo prendere atto che di fatto il personale scolastico è nella strante maggioranza dei casi vaccinati e questo ci fa piacere. Dobbiamo fare in modo che chi è fragile possa comunque svolgere la propria attività. Devono esserci delle risorse perché si possa consentire alle scuole di magari sdoppiare le classi numerose, perché ne abbiamo qui in provincia tantissime classi numerose, però non è stato fatto niente su questo versante, come non è stato fatto niente sul versante dei trasporti e del tempo scuola da dare ai ragazzi. Bisogna aumentare il tempo scuola per le ragazze perché in situazioni di pandemia necessariamente c'è bisogno di tempi più distesi.